Allora, la prima cosa che facciamo è abbassare un po' il volume, poi chiederemo anche agli altri amici di abbassare un po' il volume. Io sono Francesco, qui c'è tutto lo staff di Rayar Web Radio, www.rayar.net, scritto RYAR, ormai lo sa tutto il mondo. Vi presento parte dello staff, qui abbiamo Iuri, Riccardo, Alessandro e Giulia. C'è anche Emanuele, c'è Giovanna, abbiamo tantissimi programmi, seguite la programmazione, seguite il palinzesto, ringraziamo anche Radio Speaker che ci ha dato l'opportunità di stare qui in questa, che fai a bassi? In questa fantastica cornice del Roma Web Fest, vi aspettiamo sul nostro sito, seguite tutte le iniziative sia della nostra radio che delle altre radio, che di Radio Speaker, insomma ascoltate la radio su web e scaricate l'app, scaricate l'app per Android perché è molto bella. È molto bella naturalmente e poi arriverà anche quella per iPhone, insomma, e poi ringraziamo anche i nostri amici di Web TV Studios. Ho detto bene? Grande! Grazie! Come on! Somebody! Somebody!